Civil Week 2024 al Parco Trotteri in compagnia di Carlo, volontario dell'Associazione Arcobaleno e della Rete Scuole Senza Permesso. Buongiorno Carlo. Ciao, buongiorno. Cosa avete realizzato per questa Civil Week? Io vedo già qua delle belle parole, le ho già trovate, giustizia, le ho già trovate subito. La nostra è una rete di scuole che insegnano italiano ai migranti, è una rete di 33 scuole con oltre 600 volontari e abbiamo pensato di dare a questo evento che stiamo organizzando con altre associazioni di cui parlerò, di dare come titolo l'articolo 3 della Costituzione che riguarda l'uguaglianza tra tutti, tutte le persone sono uguali davanti alla legge. E come scuole abbiamo pensato di fare dei giochi di parole e qui ne vedete uno, per cui si tratterà di comporre certe parole tipiche della nostra Costituzione attraverso questa tavola. Poi daremo un premio e parleremo dei contenuti di quell'articolo della Costituzione che riguarda quel determinato aspetto. Grazie mille e buona Civil Week allora. Grazie a te.